Le 90 primavere di Carlo Tamanini, sulla Busa è scritto così, l'hanno scritto sui giornali mi hanno fatto piangere, vuoi dire, Tamanini che piange, ma non ha capito, eppure cari ragazzi mi sono venuti giù i lacrimoni, mi sono venuti giù i lacrimoni perché io per la verità ero in bagno e mi stavo finendo il restauro mattutino e mia moglie viene e dice guarda che c'è il professor Parisi che ha bisogno di parlarti, dico uscire adesso mi è finita, ma che mi metta, no no, dice guarda mettiti la vestaglia e finissi in fretta, allora non ho fatto la doccia come al solito ho fatto, mi sono e sono apparso al balcone con un coro sotto tanti auguri eccetera, mi sono veramente commosso, sì non mi aspettavo, non mi aspettavo che ci fosse sotto tutto questo gruppo di persone che cantavano quello che hanno cantato, una grande soddisfazione. Poi la sera, è stata una giornata piuttosto piena, ho sempre pensato che il professor Parisi mi sviolinasse, perché che dico lo sviolinatore, ma per la verità devo dire che c'è stato un ampio complesso di sviolinatori, io ho ringraziato quelli che ho potuto, ma ringrazio anche quelli che non ho potuto ringraziare personalmente e quindi un grazie di cuore da un Tamanini che normalmente non piange, ma quel giorno veramente ho pianto. Allora, finché lo pianta, finché adesso è meglio che Trent è subito in politica, così ne si sveglia subito la pettorina e le lacrime e la commozione tornano indietro. Elezioni in Sicilia, ha vinto il centro-destra, balle, balle, balle e poi balle. Numericamente, certamente, ha vinto il centro-destra, ma con una coalizione, con la coalizione di Forza Italia, come parla già parla il 14-15%, con Salvini, con quella là da Iocifora, che mi parla che la gabbia è il mal della tiroide, lì, come si diceva, il Basedoff, di Fratelli d'Italia, con una coalizia di persone. Però, 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 una coalizia di persone, ma il Movimento a 5 Stelle da solo si è beccato al 30%, circa, cosa? 34, insomma, diciamo il 30, che mi arrotondiamo, gli altri gli ha già parla il 40%. Ma se per caso gli altri beghesse, se la Meloni dicesse che mi se la distingo, quell'altro, come si diceva, che distingo, ha un'inietà. Quindi, per conto mio, se devo fare un'analisi, io direi che in Sicilia ha vinto, primo, il 5 Stelle, poi gli altri partiti. Cosa posso dire, 5 Stelle? Io non so. Non so, è le 5 Stelle, ma al di là del 5 Stelle, io vorrei fare una considerazione, ma il 51% di persone che non ha votato, che non hanno votato, che testa hanno? Come la penseranno politicamente? Sarà di destra? Saranno di sinistra? 51%, 52% mi pare, cos'è? 51%, 52% di persone che non hanno espresso il loro voto, insomma, non è una roba da sottovalutare, secondo il mio parere. Quindi io se fossi anche il 5 Stelle non griderei a tutte queste vittorie, neanche il centro-destro, perché se per caso quel 51% fosse tutto comunista. vorrei vederla a me. Secondo il mio parere, la gente del 51% fa parte delle persone come il sottoscritto, e forse anche come il Galas e anche come il Parisi, perché non vediamo in questi gruppi politici la vera espressione del nostro modo di pensare. Non lo vedo, a me voto il 5 Stelle, si protesta, eccetera, poi mi penso, ma sì, e quando c'è la cavallata che fare con la burocrazia, quando c'è la cavallata che fare con i carabinieri, quando c'è la cavallata che fare con la guardia delle finanze, quando c'è la cavallata che fare con l'ufficio delle entrate, quando c'è la cavallata che fare con tutta la burocrazia italiana, anche al 5 Stelle ragazzi, la sarà dura. Cosa succede secondo sempre il parere d'Extrotamanini? Sì, lo so, qui mi fanno vedere un cartello, che cosa succederà alle politiche di primavera e il PD, perché chi ogni tanto ti fa i cartelli, ti fa vedere quel che ti devi dire, su cui devi ignorare. Allora, ha ragione Galas, veniamo subito su questo argomento, ma secondo il parere del Tamanini, quando si andava a votare, si votava anche col 70-80%, c'erano dei principi. Uno, una parte era favorevole al Partito Comunista all'Unione Sovietica e una parte non era d'accordo, allora c'era una scelta, come quando abbiamo votato per l'aborto, uno aborto, quando abbiamo votato per il divorzio, uno divorzio. Abbiamo degli argomenti su cui esprimere un parere. oggi, il PD, secondo quegli altri non fa cose di sinistra, allora io mi domando, Bersani, D'Alema, Cuperlo, Civatti e quell'altro che mi sfugge, avete fatto cose di sinistra o avete favorito il centro-destra. Perché, signori cari, avete favorito il centro-destra, perché secondo il detto latino che credo di aver già citato qua, divite et impera, cioè dividi e comanda, è successo così. Perché a forza mi la penso così, ti te la pensi così, quell'anno a far cosa di sinistra, ma sì che fa cosa di sinistra, ma no che fa cosa di sinistra, il fano fatto da Berlusconi che le dà via da Berlusconi. Un gran casino di pensieri. Ma il popolo non è messo di fronte a delle scelte. Per esempio, torniamo a nazionalizzare la TIM. Questo potrebbe essere un argomento. Perché non torniamo a nazionalizzare le ferrovie? Altro argomento. E perché non nazionalizziamo l'Alitalia? Altro argomento. Su questi argomenti si potrebbe anche votare, uno può dire sì. E perché non facciamo la nazionalizzazione delle banche? Questa potrebbe essere una cosa di sinistra. Le banche devono essere di Stato. Ma noi che cosa andiamo a votare? Se l'è simpatico Renzi o se l'è antipatico Renzi? Secondo D'Alema Renzi è un bamboccio, quell'altro dice che non è un bamboccio, l'altro dice che è il toscano, quell'altro dice che è il fano della mafia. E andiamo a votare su persone senza programmi, senza un'idea politica. Che cosa vuol dire la parola politica? Allora ve lo dice il Carlo Tamarini. La politica, secondo me sempre, è la conduzione etico-morale-amministrativa dello Stato. Allora un partito che si presenta deve dire che io voglio un certo tipo di etica, scala. Cioè come si comportano le persone, se cosa le deve andare a messa o non le deve andare a messa, se deve buttare le robe per terra, se il matrimonio funziona ancora, se si può ancora separarsi. E dove sta a passo? La morale che è vicina anche all'etica e soprattutto la conduzione amministrativa. Uno partito mi deve dire va ancora bene questo sistema fiscale. Tutti continuano a dire che il sistema fiscale non funziona. Ma datemi una soluzione. Eh no, ma sta comoda. Eh bisogna creare posti di lavoro. Come? Come? Ai posti lavori deve essere definitivi. Allora mi chiede l'elenco mi. I posti di lavoro a tempo indeterminato. Quante aziende sono andate dal culo per aria nel basso Sarka? Ed erano a tempo indeterminato. Come si sono trovati qui i lavoratori a tempo indeterminato a casa? Con tempo indeterminato. Non vuol dire niente. È tutta una diatriba politica fatta sulle parole, sulle simpatie. Ma è simpatico un, ma è antipatico l'altro. Ottobre è simpatico, quell'altro è antipatico. Qui bisogna che, secondo il mio parere, si facciano delle scelte amministrative. Allora, per esempio, intervistano, per esempio non c'entra, ma fattolo, intervistano un ministro dell'economia italiano e gli domandano. Secondo lei qual è il miglior sistema fiscale che esiste? Ah, il sistema fiscale tutti hanno delle grosse latente. Ma ce ne sarà uno l'inglese? Sì, ma nessuno è perfetto. Posso dirle io qual è il sistema migliore? Il ministro dice se mi dica il sistema americano? Beh, quello è fuori discussione, non se ne parla perché quello è il migliore, si sa, noi dobbiamo parlare degli altri. Ma se sto ministro dice che è il migliore, copiamo? I italiani a scuola sono bravissimi a copiare, io ho copiato, se non fosse qualche copiatura, forse non sarei neanche arrivato alla fine del liceo, perché era il Furioli che mi passeva i temi, e via, scopiazzavo. Siccome noi scopiazziamo molto volentieri, allora perché se scopiazziamo il vestir male, lo slazarato, il frasario culo, merda, il zonesto passo e tutte le altre cose, capelli drotti, braghe rotte, tutte queste robe qua, scarpe sbottonate, non andiamo a copiare anche dagli americani il sistema fiscale? Perché non c'è un partito che dice io se vado al governo applico il sistema fiscale americano? No. Io se vado al governo faccio la fusione della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia delle Finanze e tutti e faccio un unico corpo, i Carabinieri. Io se vado al governo faccio la nazionalizzazione, come ho detto prima, di alcune cose che abbiamo detto prima, la TIM, le ferrovie, eccetera. Allora il cittadino può dire, vabbè, se va sul Tamanini e nazionalizza, se va su quell'altro privatizza. Ragazzi, ma mi vengono da ridere, adesso se la sono presa con quel po' Renzi lì, poveretto, mi fa capire. Lui ha commesso un errore Renzi, doveva andare a casa, a casa, a casa, doveva andare e non sarebbero andati a cercare. Ma a un certo momento si è permesso di dire che insomma la Banca d'Italia ragionissima, ma come? Che abbiamo la Banca d'Italia, vai fora, che la Banca del Veneto non funziona, che l'Etruria la fa così, che, 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 che ci siamo e quelle di Firenze, il Monte dei Paschi, che aveva dato anche a 4 miliardi, tra l'altro, che quell'altra, che quell'altra, e la Banca d'Italia cosa faceva? Non posso adoperare un termine universitario perché mi veniva fora, ma Parisi mi fa dolciassi perché la capiva, la disfermo, non l'ho detta, non l'ho detta, non l'ho detta. Vabbè, voglio dire, noi abbiamo bisogno di scelte, di scelte. Allora, il 51% che non ha votato, secondo il mio modesto parere, è perché non ha avuto la possibilità di scegliere e per simpatia non ha votato, perché probabilmente del 5 Stelle, sì, simpatia, protesta, ma non convince, non convince, non convince. La destra, ma sì, ragazzi, ma gli ho detto Forza Italia, gli ho detto Salvini, ma Salvini accorde l'idea di rafforzare l'Europa o di restare nell'Europa? Vuole ancora l'euro o non vuole più l'euro? Perché queste cose qui, Berlusconi, cosa pensi? E quell'altra, la fascista lì, la, 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 la… La Meloni, e se un giorno o l'altro in Forambe Gomli, il 5 Stelle è un blocco unico. Conclusione, il Sicilia ha vinto le 5 Stelle e non ha vinto il centrodestra, ha vinto una fusione di partiti, di opinioni simili ma non uguali e il PD è il frutto di Bersani, di questa gente che ha detto che il PD non fa cose di sinistra e loro fa cose di sinistra favorendo la destra. Risultato? Che la sinistra italiana è nata per favorire la destra e quindi che non vengano a dirmi quelli di sinistra che loro fanno cose di sinistra e quelli che non fanno cose di sinistra, non fanno cose di sinistra, morano la favola, che vince la destra. Grazie